Ehi la ciurma! Ciao a tutti sono Mazzetest e sono qui con Marco88 e siamo qui per un nuovo episodio di così saltuario di Eurotrack Simulator piove diluvia parecchio non trasporterò ma che bello tempi diversi inizio partire andiamo tutti e due a liegi solo che io devo portare della legna lui deve portare degli scavatori cose molto simili dai siamo abbiamo messo il multiplayer a differenza dell'altro come notate come notate sono sto circolando in senso opposto come in senso opposto di marcia ma perché mi sei entrato dentro il camion? eh non dovevi offrirmi un caffè aspetta entri arrivo abbiamoci un caffè ciao vedo il tuo specchietto lol però no Oliver non riflette niente ciao no parti prima di me giammai comunque se non c'è mettere la multiplayer l'unica cosa è che ci sono un po' di baghetti diciamo secondo me il più grave è quello della lista dei lavori e che o non si aggiornano o hanno dei tempi di scadenza troppo lunghi oppure non hai nessun lavoro nella lista esatto Marco ha il problema del fatto che scadano dopo troppo tempo io invece ho il problema che non mi appaiono scadono ma non ce ne sono altri devo forzarlo sempre vabbè così come faccio a vedere se tra l'altro eh io lo vedo e beh tu sei davanti ah ma anche la visuale di seconda persona forse è meglio forse è meglio prima secondo te è meglio prima o seconda ah io uso il volante quindi mi trovo molto meglio con la prima è molto più verosimile diciamo l'unica cosa uso con la terza persona per le manovre sai quella con il tasto 3 questa così per gli ascoltatori sono tu usi la 2 normalmente io trovo più interessante che è più facile anche da utilizzare così mi regolo sì con le manovre effettivamente è una cosa abbastanza complessa diciamo all'inizio però forse per youtube è meglio la prima non lo so boh beh ragazzi voi potete vedere tutte e due le visuali quindi potete apprezzare sia l'una che l'altra io mi sono un po' allontanato perché non voglio stare dentro il tuo camion ah ok vedete dobbiamo andare tutti e due a Liegi tra l'altro stiamo attenti poi a registrare perché di sicuro ci metteremo molto di più che 20 minuti per arrivare a Liegi è chiaro 14 ore e appunto tu hai intenzione di tagliare oppure interrompiamo prima no io sono io sono pazzo non taglio no sen serio non taglio ma vuoi farlo fino a Liegi vuoi fare un video fino a Liegi sì ok allora io magari lo taglierò vedo sto tempo più che altro di fare i tagli però di sicuro è più facile che trovi il tempo per fare i tagli che non quello per caricare un video da un'ora vediamo quanto no un'ora no mezz'ora sì forse mezz'ora no beh di più scusa ora che stiamo già registrando da quattro minuti e siamo appena usciti da torino sì stiamo parlando da torino stiamo parlando da torino stiamo andando a Liegi Liegi belgio ah un'altra cosa se notate abbiamo aggiornato il profilo non è il camion che abbiamo utilizzato per la prova se no ti ricordi i mazzel ah no il primo video che ho caricato solo io sì esatto però comunque perché quello usavamo la versione normale diciamo questo qua abbiamo siamo sul multiplayer e la versione vecchia esatto il multiplayer funziona solo con la 1.12 e mentre la ultima è la 1.14 quindi abbiamo dovuto downgradarlo solo che il vecchio salvataggio non funziona diciamo quello che abbiamo usato l'altra volta quel profilo non funziona perché della patch è successiva e quindi non lo carica sulla 1.12 invece se vi chiedete perché ho il camion estremamente figo e ho tipo 610.000 euro è perché io avevo un salvataggio vecchio sì esatto lui ha utilizzato un salvataggio vecchio che aveva ma ne abbiamo già parlato nello scorso episodio se non sbaglio di questo salvataggio vecchio tuo non ricordo se ne ho parlato comunque vabbè cos'è? ah non mi ricordo se ne ho parlato ok prima sembrava di sì che ne abbiamo parlato vabbè comunque lui prima aveva un altro profilo che aveva usato tempo fa quando ci giocava poi dopo ho smesso di giocarci prima che cambiassero versione quindi funzionava ancora quello che è a livello 28 29 io me ne sto quasi 30 posso starmene bellamente in mezzo alla strada tanto rifiutando tra l'altro la generosa offerta di marco 88 di darmi una copia del suo salvataggio vabbè così ti diverti di più anche se è frustrante eh ho dovuto fare 20 consegne per comprare il primo camion che è questo qua questo volvo che ho preso che non mi dispiace proprio per niente anche se in realtà non l'ho personalizzato bene perché non avevo più soldi infatti come potete vedere ho giusto 2900 euro tu quanto in là sei andato non ti vedo più ah io ho lasciato il cruise control a 70 km orari e sto andando oddio mi sento sono a 776 km dall'arrivo 775 4 mi dà fastidio guidare così 3 così come in prima persona e beh non ci sei abituato più che altro piove ho tipo il camion che costa un botto di soldi e mi dispiace avrebbe distruggerlo non ti vedo più ok ho deciso faccio così torno in prima tanto un primo test in c'è in seconda adesso ti raggiungo ma se vuoi anche aspettarmi tanto non c'è il sonno in un altro aspetto del multiplayer esatto non c'è il sonno e le soste se si fanno e non si buggano perché una volta mi si è buggata e mi diceva che non era passato del tempo invece la consegna era scaduta c'era in ritardo e dopo parliamo anche di quest'altro buggoso e appunto infatti ti risvegli istantaneamente ecco ti risvegli istantaneamente no no sei tu oh si sei tu si sei sei tu ok allora riparto altra cosa non c'è traffico io ho supposto ma marco me l'ha un po cassata come versione che per il server era molto pesante gestire il traffico di tutta la mappa caricato contemporaneamente oltre ai camion dei delle persone connesse però marco non era d'accordo non sappiamo esattamente perché comunque si ma forse trovi gli altri trasportatori ogni tanto ma come avete potuto notare ci si passa in mezzo senza farsi danni forse ho capito il motivo sai vediamo se ragionamento fila non ci sono le collisioni si quindi per quello perché mettendo le macchine non ci sono le collisioni tra noi due ad esempio guarda sto addosso non essendoci le collisioni con gli altri veicoli non hanno messo i veicoli perché appresentivano il server ha anche possibile ma tu dici che non potevano fare una cosa differente cioè il camion urta e la macchina cioè il camion non urta ma la macchina si probabilmente era complicato vabbè comunque poi un altro bug cosa stavo dicendo a sì che quattro volte mi è capitato di fare dei lavori che già al momento della partenza eri in ritardo me l'hai detto tipo due ore di ritardo ma esatto no uno sono partito la consegna uno addirittura un tipo un torino venezia mi ha fatto partire con sei giorni di ritardo cioè dovevo consegnarlo lunedì e partivo domenica no era di più sai era sei giorni di ritardo no c'era scritto 1459 ore ah ma quello era per quello tutorial diciamo il primo in assoluto che quello mi ha fatto tipo 1500 ore di ritardo infatti non mi ha dato punti cioè assurdo è chiaro che non ti hai dato punti non riesco la velocità quanti mesi di ritardo sono 1459 ore? non lo so una cosa assurda e un'altra cosa prima stavo scaricando della roba da internet mentre ero connesso per livellare un po' ehm non stavo scaricando per livellare stavo giocando per livellare ehm ehi non vedo un kaiser rallento perchè sennò qua mi schianto ehm cos'è che stavo dicendo? ah si che per ping mi ha buttato fuori perchè avevo un ping più alto del massimo consentito che è 600 e allora cos'è che è successo? mi ha fatto continuare offline no? cioè non è cambiato niente nel gioco salvo il fatto che fossi disconnesso e il tempo non trascorreva più quindi ho fatto una consegna istantanea perchè sono partito e sono arrivato nello stesso minuto bello è stato assurdissimo beh una cosa è andata bene perchè una di quelle due che mi ha fatto fare offline ehm era già partita in ritardo di 3 ore quindi se non altro sono arrivato in ritardo solo di 3 ore e non di 18 come sarebbe stato altrimenti che altro dire? beh quanto per dire adesso macetes mi ha fatto scoprire una cosa che si chiama Humble Bundle ho comprato con un euro tipo quant'erano? 5 giochi? neanche un euro era un dollaro grazie per avermi hai ragione un dollaro un po' meno tipo 80 centesimi saranno si per ora poi quello della rana l'hai poi provato? cioè ti è piaciuto quello della rana? vabbè è un gioco leggero non è una roba no non l'ho provato lì l'ho provato mio nipote ah si si no era per dire se l'avevi visto che carino però dai io ho giocato quell'altro degli alieni stiamo parlando dell'Humble Bundle quello di Worms non so se qualcuno di voi gli ha dato un'occhiata in pratica c'erano 5 videogiochi di Worms dal primo poi c'era Worms Blast, Worms Pinball, Worms Golf, Worms Armageddon forse boh della roba così poi c'era un Super Frog HD tipo si chiama Marco ti ricordi? eh Super Frog HD che è un platform 2D tranquillo tranquillo e poi c'è la trilogia di un alien feeder no qualcosa del genere e a cui io mi sono appassionato abbastanza cioè nel senso ci ho giocato 4 o 5 ore 4 o 5 ore non è male anche perchè quando mi sono preso il volante che ho preso recentemente se a qualcuno interessa è un volante della Trust Master quello è proprio quello che costa meno ho preso anche un gamepad giocarlo col gamepad è troppo epico sia Super Frog HD che quello degli alieni spari e spacchi tutti quegli alieni cattivi che ti mangiano la faccia già oddio mi ribalto oddio oddio ma tra l'altro perchè ci ha fatto fare questa strada del cavolo e non l'autostrada? boh fa schifo in effetti si sta strada è bruttissima infatti certe volte quando faccio le missioni guardo prima la mappa e devio quando lui mi vuole fare le stradine stupide ma perchè alla fine fine in linea d'aria è più corto però ci metti di più a fare queste curve che non andare in autostrada no? no? ma questo non si chiama linea d'aria scusami mille curve non è linea d'aria no ma ho capito diciamo sulla carta e questa è la strada più corta magari no? in chilometri in chilometri però ci metti di più a farlo eh? io la vedo difficile perchè più curve significa più strada eh però è dritto cioè nel senso devi allontanarti di meno con gli altri dovevi devi deviare ho incontrato un altro camionista per fare anch'io ricordati di suonare il clacson quando li incontri sono però più occupato a non andare fuori strada eh ma tu non suoni mai scusa no io suono sempre faccio due colpi uno breve e uno lungo non so se il codice morso vuol dire qualcosa ahah no non lo so neanche io penso dici dovrebbe solo una lettera io su solo S o S guardiamo un excluding ecco un altro flick che puoi breve 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 ok breve 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 perché mia da ogni tanto desidero in 소�chos che succede? lode di te Me ne vado, me ne vado Intratteniamo nel frattempo Mentre Marco88 è alle prese Con un'orda di alieni Tra l'altro spero non sentiate l'eco Ma Marco ha le cuffierotte E quindi sono sugli altoparlanti Del suo computer, ordinatore Ordenador Ordinatore Calcolatore No in italiano non si dice ordinatore Effettivamente si dice calcolatore Però va bene Non andiamo a parlare di queste cose qua Tra l'altro io sto andando avanti Lui non mi raggiungerà mai più E vincerò e consegnerò prima la merce E diventerò più ricco di lui No, mia sorella Ah si è tornato Cosa dei familiari Stavo intrattenendo nel frattempo Potrei raggiungerti ma non voglio riscare Vengo, c'è schifo da strada Dai mi fermo Ah che schifo di strada Sono appena dopo la galleria Quando imbocchi la galleria dimmelo Oh guarda stanno lavorando La legna Devo portare a loro la legna No, io la devo portare via Devo portarla in Belgio Non avrete mai la mia legna Mi la scarichi addosso Ehm No Perché poi mi fanno delle grane Per la merce danneggiata Io lascio là il mio Semi rimorchio E se lo sbrogliano loro Ma si è arrivato a sta galleria Sì, ti vedo Ah ok Ti ho detto di dirmi quando entrai Anche vorrei che mi ci vorranno tre anni Per partire qua in salita Ok Sono intanto Ciao belli Hai visto che lavorano sti operai qua? Fanno finta di lavorare Sì effettivamente Spostano e rimettono nello stesso punto Il vuoto spostano Noi invece siamo gli unici Che lavoriamo sul serio In questo mondo qua E in questo mondo di pazzi In questo mondo senza macchine Ci si sente un po' soli Suoniamo un po' Oh no L'effetto doppler è troppo epico Hai visto? Hai detto Oh lì È comparso un cambio No, due Due Ah ma sei così indietro Mannaggia Aspetta che rallento Effettivamente sto andando Tipo agli 89 Hai Marco 89 Non mi va di correre con questa strada di Sì ma là era abbastanza dritta Poi qua c'è il limite degli 80 Ci sarà un motivo Sto andando Un po' forte anche adesso 90 Sei un pezzente Non vedo niente E che poi mi dà il Guarda che c'era un altro Ho pronto a suonare No È in ritardo Ha fatto Ecco sto raggiungendo le velocità Ma Ma non è così tanto Puoi andare agli 80 Scusa se Vabbè Sì adesso Riaccelero Non posso accelerare È vero Tu non hai il pedale Lol Con i pedali è tutta un'altra cosa Sì Allora adesso possiamo parlare Dei nomi della stampante Nel mondo No in realtà Non soprai dirvi Quindi Andremo a tamponare questo Sei di nuovo qui Are you still here? Questo si chiama The patate 98 Quindi è un italiano credo Perché Ma ci sono le mucche Perché patate Credo che sia un termine Italiano Dove sei? Oddio Si è ribaltato No Quasi Chi? De patate Perché non suona? Ah Ops Quello che dicevo l'altra volta Che ho il pulsante Dello spegnimento del motore Vicino al clacson Allora al posto che suonare il clacson Spengo il motore Beh non è fatto Ma come cercolosi al contromano? Ero mezzo al contromano Dai L'avete visto tutti Preto Ma dove sei Marco? Mi sento solo Sono dentro di te Siamo in Svizzera Porca minerva Cosa? Sono qui Oh Mi sento meglio Tra l'altro Me l'hai notato Che Druppo amici del bar Cos'è che c'era scritto quello? Anche qua lo stato È come Nella realtà Perché c'è solo quando C'è bisogno di incassare Multa Multa Ma qua è automatico Cioè Appena sgari Un millimicronesimo Incazzano subito Esatto Ti spaccano la faccia E incassano Sei passato col rosso In una città fantasma Vergogna Sì Quando passi col rosso Nelle città vuote Ah è vero È vero È assurdo Io è per quello Che volevo togliere Le multe qua Ma in realtà Non si può Cioè si può nel single player Ma nel multiplayer no Perché è stupido Nel senso Contromano Non sei un pericolo Perché non puoi Rompere le scatole Nessuno Passare col rosso Anche Non cambia assolutamente nulla Limiti di velocità Meno che meno E poi L'urto con le automobili Proprio non esiste Poppo non esiste Pronto col clacson Cruise control Micro 42 Era quello Ma stai andando agli 80 O cosa? No stai andando agli 40 Stavo aspettando te Wow Ma io ero dietro di te Eh lo so ma Eri un po' lontano Allora ho detto Beh dai Facciamogli un servizio Così dice Thank you for your disservizio Come dice Marco Scron Non mi veniva il nome Il tizio tale Il tizio tale Tra l'altro Marco non so se hai mai guardato Eh C'è un video Di Di Niuba La tipa di Marcus Scron Che dice Per dieci minuti Mettete mi piace In un modo tipo Sua dente Mettete mi piace Mettete mi piace Mettete mi piace Mettete mi piace L'hai mai visto? No Ma erano mezzi ubriachi Secondo me Quel momento In cui hanno registrato Quel video E quando hanno registrato Un video sul gameplay Di Fist of Jesus Che è un videogioco In cui sei Gesù E dai dei pugni A dei farisei zombie Sì davvero Però Per un gameplay Quando sei ubriaco Credo che possa andare bene E lei appunto Iniziava il video E diceva Mettete mi piace Mettete mi piace No vabbè Lo dicevo solo una volta Solo che poi L'ha messo Marcus Scron Ne ha fatto un loop Dieci minuti Comunque la preferivo con i capelli normali Non con quelli blu Nuba Eh vabbè Tu che ne pensi Marco Di cosa? È carina Nuba È carina Nuba Ma non la conosco nemmeno Ti ho detto No? No La tipa di Marcus Scron La tipa di Marcus Scron? Io non seguo Mi chiamo Marcus Scron Ma neanche io sono iscrivito Ma ogni tanto vedo qualche cosa Ha fatto anche Tu segui Ciccio Gamer? Tu segui Ciccio Gamer? No Neanche? Neanche Più 3D? Più 3D? No Seguo solo uno Solo Luke? Solo Luke? Yeah No Hai visto anche il video Di quei due sul server Scusa Si Però Prevalentemente quello Ma tra l'altro Volevi farci un gameplay Sul coso di Quei due sul server Devo procurarmi Una scatola di Vali Perché fa venire Nervoso Fa venire Un'emicrania Io ho visto Il video Che ne ha fatto Surreal Power Oltre a quello Che hanno fatto loro Poi volevo vedere Quello di Zeb89 Ma Ciurmari Eccoci Ho deciso di tagliare Questa parte qua Perché è stata parecchio Noiosa E alla fin fine Il video sarebbe venuto Un video di un'ora Sono arrivato Sono in un posto diverso Da Marco Perché Marco Proprio in città Liegi Tra l'altro Mi ha fatto fare Una strada Tutta diversa E Ho un posto schifosissimo Per fare manovra Io direi Io ho finito di fare manovra Direi che Per me Almeno per ora è tutto E quindi Mi invito a mettere Mi piace Ai nostri due video Iscrivervi ai nostri canali Che dici? Sì Sembra una buona idea E sono contento Per chi Vi vuoi ci ha seguito In questa avventura Nel centro dell'Europa Quindi Vi saluto Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.